salve a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo fantastico video sono in compagnia buon salve e purtroppo siamo su sonic.exe sega mamma mia i comandi sembrano molto facili se non possa abcd non volevo premere questo ecco adesso farà un jumpscare sicuro 321 321 aspetta aspetta dovrebbe diventare tra poco esatto 321 ma quattro ma cric o dio ok allora ma scusa non è cosa lagga un po oh che cosa ma non sto toccando niente non sto toccando niente non sto toccando niente cosa por cattolo aia ma non sono morto non avevo ring cosa stasci ma uno lagga un botto cosa due non me lo ricordavo così non è così che sta succedendo oh no 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 cosa dia mi sta succedendo raga raga oddio oh aspetta questo è livello di cosa sei morto avevo i ring Com'è possibile che sono morto? Cosa è successo? Non lo so Starto Non so Ok Con calma Vediamo prima i tasti così che faccio Proprio niente Così che faccio Niente così che faccio Niente così che faccio Salto E salto Mi sono notato in un televisore? Cioè ragazzi sono un Ma No Ma con questo puoi anche No che figata Non ci credo Ma Stai saltando il livello in qualche parola Non ci credo No Oddio Ma volo lo stesso Ma puoi diventare tutto in poche parole Che cosa sei ora? Aiuto Ecco si espono Ma Oh no che figata Cosa sono? Ma Ok sono Sonic Che cosa è successo? Cosa? Ma non è questo l'originale? Ma Ok però Ma non è che si paga Ho vinto Ho vinto Ho vinto Oddio Stai completato Vabbè Vabbè Sono un po' Scioccato da ste robe Un po' Allora tra un po' Testeremo il secondo gioco Perché voglio testare i giochi Questo mi piace Ma non è quello Ma non è quello Ok però è carino Però sto muovendo E vorrei andare indietro Per prendere l'aria in corsa Ecco Cosa? Cosa è successo? Ma perché? Ma scusate Ok Vabbè Seguo Ragazzi allora vi dico Che non abbiamo trovato niente Che su internet Veramente internet ci trovi di tutto Quindi vedremo un video Sto per rendervi l'idea del gioco originale Lui è Sonic Ed è un tenero porcospino Non è Il posto mio Loro Infatti Non è vero È una bestia Tenetevi pronti Tenetevi forti Perché oggi Andremo a giocare Tre giochi maledetti Su Sonic Xen E visto che a me piacciono le cose brutte Ci vediamo a questi due giochi Ragazzi e voi conoscete Sonic Xen Scrivetelo sotto nei commenti E mi raccomando Cliccate il tasto iscriviti Se no Sonic Xen Viacchiererà il telefono Oh Tre app maledette Su Sonic Xen Andremo a cercare Sonic Xen Vediamo quello che posso trovare Uh Skin di Sonic Xen Per Minecraft Ma quanto sono felici Ma sono felicissime Ste skin Vediamo Vediamo altro No Videocall per Sonic Alle tre del mattino Devo cercare qualcosa di più Horror Di più brutto Tails Doll Quello che c'era prima Mamma mia Vediamo Allora Non so cosa sarà Però la musica è finissima Controlli La camera è controllata Dal tocco sinistro Dello schermo Ok Quindi questo Ok Iniziamo Giorno O notte Ma io direi notte A questo punto Già che ci Oh Oh mamma mia Eeeh Sono pronto Anche se non so Come si muove Il ma Ah così si muove Grande Salve Io sono in un bellissimo Gioco In piena notte Non si vede niente Tanto voglio metterlo di giorno 5 Oh 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 mamma mia Ma che cosa è quello Tails Tails Oh mamma mia Tails Cosa ti è successo Cosa gli è successo Tails Cerca di prendere Sti cerchi magici Hello Aiuto È orribile Corri A destra A destra Vado subito a destra Corri 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 Non pensavo già di giocare A un gioco maledetto Di sto genere Perché devo giocare A sti giochi Io sto Circo Navigando Bene Sto andando Grazie mille Beccati sto sasso enorme Ok Forse è meglio di no Forse è meglio di no Ma che cosa c'ha In testa Il coso di The Sims Ragazzi C'è il coso di The Sims Ok corri Lo scopo è quello Di prendere Tutti i cerchi Tutte le monete E prendiamole Sianelli Vai forza Prendi Prendi Ce l'ho ancora dietro Sì ragazzi È indietrissimo Io non riesco A sollevare la montagna Ok Ok Con calma Tails Non mi pare del male Ma se non sbaglio Tails dovrebbe avere Due code No Perché così vola Perché quello è il suo scopo Volare Abbiamo due anelli Come due A me mi pareva Di aver preso In più di due Ma no Ma tu sei un truffatore Sei uno scammer Vedo un anello gigante Là sopra Come faccio ad andarci Se non posso neanche saltare Come faccio ad andarci Se non posso neanche saltare Ok Eccolo là Un altro anello Forza Se mi diamo Quella bambola assassina Se mi diamo La bambola assassina Forza 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 Prendi Prendi l'anello Preso Preso Ah mi rimane solo Un ring Che è quello là sopra Aiuto 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 No 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 Mi rimane solo uno E picco Solo uno E picco No Troppo vicino Ma Ma Perché sei così Poligonale Ragazzi è bruttissimo Ma chi l'ha fatto Quello Quell'orribile O proprio Non lo so È uno scarabocchio A forma di Ah Ragazzi sono Del tirubo Non posso sollevarmi Non posso Non posso Solo Un anello Solo Un anello Mi manca Solo Un anello Ci arrivo Sono salendo La montagna Aiuto La sto salendo Aiuto La sto salendo L'ho salita Fino a qua ci siamo Il video l'ha fatto Qua ci siamo Ah Forza Si è spaventata Il posto Ragazzi sto partorendo Qua Oh no Oh mia Oh è troppo vicino È troppo vicino Eccolo Prendi l'anello Oh perca miseria Io non mi sono Spaventata Via 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 toglilo ma siamo al prossimo Ok questo è Sonic ma mi sa che non è un Sonic normale è un Sonic Eccolo Eccolo Ma dove l'ha trovato? No ma quanto è impetante È impetantissimo Ma che cos'è sta cosa? Io non ho il atto primo Dove è finito Grin? Tails ma che ci va in questo luogo buio e oscuro? È brutto Orribile Ma perché sto viaggiando tipo Oh mamma mia che cose sono queste cose? Uccelli? Non lo so che cosa sono? Carcasse? Di uccelli? Non lo so Si sta tutto riempiendo di cose brutte Ok Adesso è completato Credo che tra poco ci sarà Sonic Eccolo Fermo Sonic ciao stai dormendo Quanto tempo? Ciao ciao Adesso Ello Vuoi giocare con me? Magari no No Grazie Ad Enzicano Nascondino È la cosa preferita Da serial killer No Tails Non piangere L'ho capito Che devo andare di là L'ho capito Non ti preoccupare Io vado Continuando avanti Non ti preoccupare Che lo scopriremo Che è stato a fare questo E cammino E cammino Oh Porca miseria Aiuto No Tails Non piangere No Si uomo Tu sei così lento Vuoi riprovare Vuoi riprovare? Vuoi riprovare? No Non voglio riprovare Grazie Non voglio riprovare Ok Adesso ho sbloccato Nuckles Basta ridere Ho capito Ok Tu non puoi correre Come non posso correre? Allora che faccio? Ragazzi con gli X Do pugni Sicuramente devo andare contro qualcuno Chi vuole Un gaccio destro Sinistro In faccia? Ecco mi sa che c'è qualcuno Mi sa che Un po' il cospino Non sa Oh sa Oh quanto È succo di pomodoro Va bene? Sto giocando al succo di pomodoro Va bene Non mi fai il caso Ciao Sonic Un pugno Un pugno Ho trovato Oh vabbè Ti prendi a pugno Vieni qua Vieni qua Lui è uno Sonic Allora Se io vieni qua Allora Ma perché? Oh Aspetti Come di consueto Che cosa dobbiamo fare? Così tante anime Con cui giocare Vuoi Vuoi aggregare Vuoi aggregare Grazie a te Dottore Eggman Dottor testa d'uovo Ma che? Ma che? Ma dove sei andato Nel villaggio della foglia Che corri come Naruto Dottor Robotronico E guardate pure lui Scappa Perché sa di fare una brutta fine Guardate come sa di fare una brutta fine Ecco Ed ecco che è cambiata l'ambientazione Non so voi Ma non volevo giocare a Sonic X Ma mi sa che Lo debbo fare Ti prego Jim Carrey Non mi Io non so quali sono le tue Quali sono le tue Qualità speciale Dottor L'uomo però Crei un macchigegno Per ammissare Sei morto Ah Salve Cioè come le va la vita? Non è vero Ma che te lo dice a te? Io non so cosa sta succedendo Vi state facendo compagni a voi Vi prego Aiutatevi I'm ready for Run to us Lorenzista No No Salve No Ma sa come mi chiamo E' entrato nei dati del mio gioco Game over Game over Possiamo staccare Stacca stacca Se no Finisce male Chiama Sonic Mamma mia E beh Che dovevo fare Chi Ah Ah lo posso chiamare Chiama Sonic Rispone Ma che è Che impazzito Ma è impazzito sta cosa La pubblica Chiama Cartoon Cat Vediamo che cosa mi dice Allora Cartoon Gatto Quanto tempo Ciao Cartoon Gatto Come va? Ti stai divertendo le giostre? Si sta divertendo Si Si Oh mamma mia Quanto è orribile Ma sai ora Chi voglio chiamare? L'impostore Ma che è orribile Ma io mi dico Ma che cosa Mi sto scaricando Va bene Che ragazzi Di dire che questo video Su Sonic X Ma Fai male Troppo Sono comunque Qua Spero tantissimo Che ragazzi